Giancarlo siamo solo al check ma ci sono già le tante persone sedute che vi aspettano qual è il segreto del successo probabilmente non sanno cosa accadrà stasera forse il segreto è questo no scherzi a parte per chi ci conosce evidentemente la nostra passione che è decisamente condivisa è una passione anche loro da come sai da diversi anni cerchiamo di portare un po di bellezza in roma lo dico senza alcun tipo di presunzione siamo molto contenti di essere una piazza tra le più belle d'italia in questa città meravigliosa che è bologna e il segreto non lo so l'empatia la condivisione tutto questo e la bellezza è condivisa è un bel lavoro certosino che parte dal basso che però arriva anche come vedi nelle grandi piazze e arriva al cuore perché quello che cerchiamo di fare col festival francescano è proprio parlare allo spirito ma anche voi parlate allo spirito con la poesia e la musica io me lo me lo auguro credo che ciascuno di noi abbia ovviamente il proprio percorso penso sempre che se dopo una serata dopo un live di parole note torni a casa almeno con un testo che possa aver toccato le corde giuste non ti chiedo di riflettere sui massimi sistemi ma se riesci a scardinare quello che il nostro tran tran quotidiano un po come la polvere sotto il tappeto nasconde abbiamo vinto insieme non abbiamo vinto noi e quindi lo spirito cerchiamo di elevarci un po tutti insieme il più bello fra i testi che leggerai in questo in questo spettacolo o la frase che ti ricordi di più allora io leggo perché non ho memoria non potrei mai fare l'attore non ricordo niente sono sono tanti testi che non avendo un impianto recitativo io cerco semplicemente di entrare nel testo e di di viverlo un po e ovviamente poi il linguaggio è molto radiofonico per cui ho una base su che appoggio delle immagini su cui appoggio e appoggio il la narrazione se dovessi scegliere un testo in questa fase mi colpisce moltissimo non chiedermi il perché perché non te lo saprei dire un testo di di gabriele corsi che del trio medusa per cui se vuoi anche un comico comunque un personaggio che fa tanta tv che si intitola fammi essere ancora figlio e che chiede al padre di non andare via nel momento che precede ovviamente la scomparsa e la morte è un testo che io non c'è a stento trattengo la mia emozione anzi tutta verità non la trattengo proprio perché perché non vedo perché dovrei trattenerla e credo che questo arrivi in un determinato modo ecco questo è il testo che poi come sai lo spettacolo non è quasi mai lo stesso comunque modulabile per cui ci sono dei testi che a volte che spesso ripetiamo sono dei dei testi cult mettiamola così dei cardine testi cardine e altri invece che innestiamo così come come nuovi in un percorso gabriele corsi fammi essere ancora figlio fa parte dell'ultima della novità di parole per il futuro e è molto intenso grazie a te grazie mille